Pachi di Amici 22, chi è la fidanzata Elenia, della ballerina, foto, Instagram, il rapporto con Maddalena. È entrato da poco nella scuola più spiata e famosa d'Italia, quella di Amici. Ma Pachi, ballerino di Ipap Napoletano e nel team di Alessandra Celentano, sta già facendo parlare di sé. Sì per il suo talento, che non si può mettere in discussione che addirittura il ballerino Sergio Verme l'ha notato, gli ha chiesto di danzare con lui. Ma anche per il rapporto un po' conflittuale con Maddalena, la ballerina del team di Imanuello. La ragazza si è avvicinata molto a Pachi e ha sempre sostenuto che tra i due ci fosse una bella amicizia. Eppure, il ballerino non sembra esserne così convinto e nel dei team di oggi ne parlerà con Giulia Stabile. Come reagirà Maddi? Non mancheranno, stando alle anticipazioni, i colpi di scena. D'altra parte Pachi è fidanzato ed è felice al fianco della sua Elenia. Pachi, all'anagrafe Pasquale Brunetti, è fidanzato con Ilenia Aiello. Lei ha 23 anni e sappiamo che studia danza e Ipap. Anche lei, quindi, è una ballerina. E anche lei è di Napoli. I due sembrano complici. Affiatati e innamorati, come si nota anche nelle foto che pubblichano sui social. E condividono la stessa passione per la danza. Che, forse, li tiene ancora più uniti. Ilenia ha un profilo Instagram e con l'account etileniaiel93000 followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e della sua passione, la danza. Maddalena, archiviata la storia con Mattia Zenzola, si è concentrata sulla danza. Sul suo lavoro e sull'unico obiettivo, il serale. Ma tra un passo e l'altro, si è avvicinata a Pachi. Uno degli ultimi arrivati nella scuola di amici. Tra abbracci, sorrisi, complicità. Maddalena era convinta di aver trovato un amico sul quale contare, ma si sbagliava. E le immagini che vedrà oggi, nel corso del Daitime, la lasceranno senza parole. Pachi, infatti, si lascerà andare con Giulia Stabile e dirà che Maddalena probabilmente per lui prova qualcosa. Ben lontano dall'amicizia. Grazie a tutti.